Eccoci, siamo nella parte della mostra dedicata a Miró. Come vi racconterò nell'articolo, queste sono 33 tavole, qui ci sono esposte soltanto una parte, che Miró ha realizzato per il volume tradotto da Joseph Garnier del Cantico delle creature di San Francesco. Vedete che i disegni sono molto essenziali come è tipico di Miró e nell'articolo vi racconterò perché Miró utilizza soltanto pochissimi colori, in realtà quattro puni. Ecco, questo è il libro con la prima pagina e qui ci sono le altre 33 tavole.